Consigliere, lei ha presentato una interrogazione per avere dei chiarimenti sui nuovi strumenti che sono in dotazione della Polizia Municipale. Stiamo parlando dello street control, che cosa chiedete e quali verifiche? L'abbiamo presentata insieme alla collega Bennici, scusi la precisazione, come Polo Civico. No, praticamente la nostra è un'interrogazione che parte dal capire come sta funzionando il sistema, ma per cercare di fare luce essenzialmente su come viene gestito il servizio di repressione e di controllo della sosta vietata. Perché? Perché noi chiediamo di sapere intanto quante pattuglie e quanti uomini sono impegnati, perché ci stiamo rendendo conto che in quest'ultimo periodo l'asticella va verso la repressione che verso la prevenzione. Interi quartieri periferici soprattutto non sono assolutamente attenzionati dal corpo di Polizia Municipale, mentre noi costatiamo, come tutti, che invece il centro storico è continuamente fatto oggetto di un giusto controllo da parte della Polizia Municipale per quanto riguarda i divetti di sosta e per quanto riguarda le macchine in doppia fila. Lei fa riferimento anche a delle fonti normative che prevedono determinate circostanze secondo le quali possono essere elevate le sanzioni? Assolutamente sì. La legge è molto chiara. Quando c'è un accertamento tu puoi fare la contravvenzione se manca la persona all'interno dell'automobile, ma se la persona c'è quella contravvenzione non è valida perché deve essere assolutamente contestata. Quindi si parte da questo principio soprattutto per far sì che l'ente comune poi non sia esposto dal punto di vista economico a condensiosi con gli utenti che potrebbero vedere il comune soccombente. Quindi noi chiediamo che si faccia luce su questa cosa. Inoltre chiedete che vi venga esibito il documento che attesti l'omologazione degli strumenti? Assolutamente. L'amministrazione ci deve dire quando sono stati omologati i documenti, soprattutto ci deve dire quanti apparecchiature sono state acquistate, come sono state acquistate, se sono stati fatti bandi di gara. Un'normale attività di controllo da parte del Consiglio Comunale.